Noto ai gourmet come il formaggio delle viole, il pleasantif della Valchisone è una prelibata tometta che si confeziona nel mese di giugno, quando i fiori che ingentiliscono i prati degli alpeggi rendono il latte particolarmente profumato. La terza domenica di settembre, durante la rievocazione storica Poggio Odone, terra di confine, le vie di Perosa Argentina ospitano la fiera del pleasantif, che ha origine proprio nel tempo in cui i margari, scendendo a fine estate dagli alpeggi, sostavano a Poggio Odone, dando vita al più importante mercato della valle. Della venticinquesima edizione della fiera del pleasantif e della rievocazione storica si è parlato nel corso di un incontro nella sede della città metropolitana. Questa vera e propria rarità ha rischiato di scomparire, è stata salvata grazie a un progetto di riscoperta degli antilocali, sostenuto dall'assessorato all'agricoltura e montagna dell'allora provincia di Torino e dall'entusiasmo di margari come il compianto Ivano Chalier, il cui figlio Alex è l'attuale presidente dell'Associazione dei Produttori. Il pleasantif è diventato un formaggio famoso, per quanto di nicchia, molto richiesto sia nell'Alta Val Chisone che nell'Alta Val Susa e ha portato una ricchezza in tutto il territorio, sia per chi ci abita, sia per chi lo visita e soprattutto per noi produttori che all'interno dell'associazione abbiamo una bella produzione, un ottimo progetto che cerchiamo di portare avanti negli anni. Ecco c'è un marchio che è custodito nell'ufficio del sindaco di Perosa Argentina che viene apposto a fuoco solo sulle forme che meritano di riceverlo questo marchio, con quale criterio? Esattamente, il marchio è detenuto all'interno del comune di Perosa Argentina, di sua proprietà, viene apposto sulle forme quando sarà appunto il momento che hanno raggiunto la stagionatura ideale e ci sarà una ditta esterna che si occuperà della timbratura, che ne valuterà le dimensioni, il peso e la sonorità della pasta e dopodiché se supera tutti questi controlli viene affisso, viene marchiato a fuoco con la pistilizzata e il cognome del produttore. Quindi è una garanzia per il consumatore? È una garanzia, è una garanzia sì. Presidente, per Perosa, per la valle, che cosa significa portare avanti questa tradizione ma anche dal punto di vista culturale, è la vostra identità sostanzialmente? Sì, diciamo che noi siamo partiti 25 anni fa con l'allora sindaco Laurenti con l'idea di portare a nuova luce una storia forse un po' dimenticata sia della valle, sia di Perosa, sia legata al Pleasantif e nel corso degli anni la nostra volontà è stata quella di continuare a questo progetto e cercando di avere anche un risvolto oltre che culturale, storico e economico appunto sulla valle ci rappresenta.